Spero che i signori si trovano nell'accampamento di spostarsi gentilmente più giù. Ok, creiamo qui al centro uno spazio per le danze. Ok, come dicevo, iniziamo con la danza del ventre e seguiamo poi la danza. Con due balli medievali e dopo di nuovo una danza sempre da dentro. Grazie! 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 Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!